Una serie di scatti attraverso i quali Bruno Tavanti ha dipinto la storia di Arezzo. Si tratta della mostra del fondatore socio-storico del fotoclub La Chimera che ha deciso di esporre i suoi lavori più belli in una personale nella chiesa della compagnia di Castiglion Fibocchi dal titolo Gli Occhi di Bruno. Sono partito da queste foto che ha alle mie spalle di Castiglion Fibocchi che sono un ricordo bellissimo anche perché sono molto datate e tra l'altro sono affezionato perché una di queste ha anche vinto con uno dei primi concorsi fotografici che hanno allestito qui in un paese. E inoltre ovviamente queste cose mi hanno sempre emozionato e mi hanno fatto ritornare indietro nel tempo. Poi come vedi ci sono altre immagini sempre in bianco-nero che non sono altro che una ricerca personale su dei soggetti, dei ritratti, di persone, di amici sostanzialmente disponibili a farsi fotografare. Poi a quel tempo è cambiata anche la fotografia. Tutto è stato generato in modo particolare dall'avvento del digitale che ha portato a trasformare quello che era la fotografia tradizionale analogica in fotografia digitale. che, diciamo la verità, per certe cose il digitale è anche più bello, più affascinante e anche riesce a dare delle emozioni. Però io dico che col digitale si fanno immagini, con la pellicola si fa la fotografia. Grazie a tutti.